La riscoperta del senso di spiritualità e delle radici locali attraverso i percorsi e i cammini che solcano la Toscana e che attraggono un numero sempre maggiore di visitatori è stata al centro del convegno, organizzato al Museo di Storia Naturale della Certosa di Calci dall'Istituto di Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana e dalla Regione. La Toscana, ricordato l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo, prima di altre regioni ha scommesso sul turismo lento che valorizza fuori dai percorsi più battuti luoghi di interesse storico, artistico e spirituale. Dietro a queste mura, dietro a questi percorsi c'è la nostra storia e dobbiamo essere capaci di riappropriarcene e non solo custodirla al meglio ma farla diventare partecipe della nostra dimensione. Essere a calce è anche un segno per quanto possa essere utile per ricordare quello che è recentemente successo con l'incendio che ha quasi lambito la Certosa e che ha lasciato un segno forte per certi versi drammatico di come l'ambiente possa essere violentato per la follia dei pochi e quanto tempo ci vorrà per recuperare ciò che si è perso. Al centro della giornata nella Certosa di Calci le esperienze di accoglienza, di dialogo interculturale e di strutturazione dei cammini e delle abbazie già avviata da anni in Toscana.